Siamo con Sergio Silvestrini, segretario generale della CNA nazionale qui a Siena, all'Assemblea provinciale qui a Siena della CNA. Si parla di imposte e allora la prima domanda è proprio sulle imposte, sulle tasse. Qual è il giudizio della CNA innanzitutto a livello nazionale e poi le chiederemo anche del giudizio a livello regionale e qui in questo territorio? Bisogna dire che è iniziato un cauto lentissimo percorso di riduzione del periodo fiscale, ma non siamo ancora a ciò che noi vorremmo, basti considerare che il prelievo fiscale totale sulle piccole imprese italiane supera il 60%, il che vuol dire che i nostri imprenditori mediamente lavorano fino al 10 agosto per lo Stato e solamente per i restanti mesi dell'anno lavorano per la propria azienda. È una situazione ovviamente non più tollerabile, anche perché lo spread rispetto agli altri paesi europei e soprattutto rispetto alle altre nostre imprese europee, i nostri concorrenti, è di quasi 20 punti. Le nostre imprese concorrenti in Europa pagano mediamente un fisco del 40% e le nostre del 60%, quindi è un chiaro esempio di come non siamo competitivi in tanti settori. Bisogna cambiare, bisogna certamente trovare risorse atte a finanziare la riduzione del periodo fiscale, possiamo lavorare su una fortissima operazione di contrasto, per esempio al lavoro sommerso e al lavoro nero, che tanto competizione distorta fa alle nostre imprese, utilizzare al meglio i due fondi che sono anni che il governo ha stabilito di stabilità per riuscire a finanziare la riduzione dell'IRPEF e dell'IRPEG. C'è bisogno di lavorare soprattutto su una tassa che per le nostre imprese è veramente difficile da accettare, che è l'IMU sui capannoni. L'IMU sui capannoni è una tassa che si paga su un'altra tassa, si tassa là il bene più prezioso dei nostri imprenditori, altre categorie sociali sono state esentate. Noi pensiamo che questa sia una delle prime priorità che il governo debba fare. Da anni si parla di queste questioni, tasse troppo alte in Italia rispetto ad altri paesi, di ricette ne ha date, la CNA ne ha parlato anche lei adesso di cose che si potrebbero fare, come mai non si arriva mai effettivamente a livello di esecutivo nazionale, non dico a prendere in considerazione questi aspetti, però ad andare avanti su questa strada? No, ma in realtà qualcosa è stato fatto, qualcosa come dicevo si sta facendo e anche molte proposte che noi abbiamo fatto come CNA sono state accolte, penso solamente alla riduzione dell'IRAP, siamo riusciti a non far conteggiare sulla base imponibile l'IRAP il costo del lavoro, che è una variabile molto importante, abbiamo alzato e hanno alzato dietro la nostra proposta la franchigia dell'IRAP, si è incentivato l'investimento medio portando l'ammortamento in un anno al 140%, ci sono operazioni in corso, tutte queste operazioni tuttavia non sono sufficienti per la distanza che intercorre fra il prelievo medio italiano e il prelievo medio degli altri paesi europei, occorre fare molto di più e occorre, l'iniziativa di quest'oggi a Siena è magnifica, anche perché diamo conto di uno studio ormai strutturato di CNA nazionale, dal nostro centro studi, che dice e che si intitola paese che vai, tassa che trovi, per cui c'è anche un elemento di competitività tra imprese che deriva da una fortissima tassazione locale, derivante anche da mancati trasferimenti ovviamente dello Stato centrale, che mette in discussione un equilibrio nella concorrenza. Altro tema che bisogna superare da subito e in cui abbiamo promesse, speriamo non di marinaio, del governo e del vice ministro delegato, di superare anche una contraddizione fra la tassazione per le imprese di capitali e la tassazione per le imprese, società di persone o lavoro autonomo. Ci sono degli incentivi per le società di capitali che non sono in essere per il nostro mondo, ecco bisogna superare e adeguare il prelievo delle società di persone a quello della società di capitale. La tassazione rimane il problema principale, numero uno per artigiani, piccoli imprenditori, anche pensando a una possibilità che questi hanno magari di fare investimenti, di assumere nuove persone, quindi di dare anche sviluppo al mercato del lavoro? Non c'è dubbio, questa è la chiave. I nostri imprenditori hanno bisogno, come dicevamo, diciamo ormai da tanti anni, di una minore pressione fiscale, anche perché questa è la condizione per ritornare a investire nel Paese, avere più fiducia nel futuro e sarebbe un potentissimo incentivo all'intrapresa, all'occupazione, a guardare anche con un certo ottimismo il futuro, quindi una nuova propensione al consumo e agli investimenti. Il prelievo fiscale nuoce all'impresa ma nuoce anche al consumatore, evidentemente. Occorre andare verso una radicale riforma della pubblica amministrazione, efficientare la pubblica amministrazione, recuperare redditi nascosti, ce ne sono tantissimi, soprattutto redditi nascosti nel grande mondo delle multinazionali e della grandissima impresa e liberiamo anche il mondo delle micro imprese da incombenze, da controlli occhiuti, liberiamoli dalle centinaia di incombenze burocratiche che pesano moltissimo, ovviamente più sulla micro impresa che sulla grande impresa, che sono un bastone, sono fra le ruote, sono un investimento inutile delle imprese. Ecco, queste sono le cose che dovremmo fare e che dobbiamo fare. Siamo qui come CNA, siamo qui per fare proposte motivate, argomentate, ragionevoli e accettabili. Continueremo testardamente in questa nostra operazione, confrontandoci con i nostri imprenditori e insomma bisogna avere anche un po' di ottimismo per il futuro. L'osservatorio CNA della tassazione della piccola impresa va ad analizzare la variabilità sul territorio italiano della tassazione. A fronte di una tassazione media del 61%, ripeto 61%, abbiamo delle imprese residenti nei comuni di Corizia che devono sopportare una tassazione del 54,4% a fronte di quelle che si trovano nel comune di Roma che arrivano al 73%, quindi una diversità di tassazione secondo di dove uno produce che è veramente alta e mina la competitività delle nostre imprese tra i vari territori. E questo è dovuto a dei valori catastali degli immobili veramente erradici e completamente scollegati dai valori di mercato. Con l'avvento dell'IMU questa variabilità è esplosa perché l'IMU ha intensificato i valori catastali che sono veramente troppo alti. E questo aspetto e questo tema crea degli squilibri come diceva lei, come si può regolamentare e regolarizzare un po' questa situazione? Tra l'altro anche a Siena si parla di tassazioni molto alte, più alte anche rispetto alle medie regionali e nazionali. Sì, proprio questo per regolare, ovviamente tra la riduzione del pregio fiscale complessivo che vanta su tutte le imprese, quindi attraverso una ridistribuzione della spesa pubblica improduttiva che deve essere ridotta e attraverso una ridistribuzione delle maggiori entrate provenienti dall'evasione, serve intervenire sui valori catastali ridefinendoli sulla base dei valori di mercato e aggiornandoli progressivamente. Serve un aggiornamento che sia progressivo, non una tantum e questo potrebbe ridurre quel gap tra le varie città. Un'ultima domanda, un suo giudizio su questa città, oggi c'è l'assemblea provinciale, grande affluenza, grande presenza qui a Siena, cosa pensa di questo territorio e del periodo che sta attraversando? Ecco, il Comune di Siena rispetto alla tassazione si posiziona a mezza classifica, però nel Comune di Siena c'è un grande problema che è quello della Tari, perché sebbene la legge nazionale dice che le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali debbano essere escluse da questo tributo perché già pagano altri tributi, nel regolamento del Comune di Siena e non solo nel Comune di Siena ma nei tanti comuni della provincia di Siena questa cosa non viene riconosciuta o meglio viene riconosciuta solamente in alcuni casi e con una riduzione forfettaria che sta fuori dal dettato normativo. Quindi la pressione fiscale su Siena, che formalmente sarebbe del 65, potrebbe superare il 61% e quindi andare oltre la media nazionale. Questa questione che ogni Comune ha propri regolamenti rispetto alla tassazione dei rifiuti, rispetto ad altre tassi locali è un problema che secondo noi vada superato. Per questo oggi accendiamo un focus importante su questo tipo di problema, Comune che va e fiscale trovi, francamente in una provincia che è limitata, non è nemmeno così, basta, troviamo 38 comuni che applicano completamente regolamenti differenti, questo pensiamo debba essere superato pensando almeno di mettere in campo regolamenti unici. Abbiamo visto in platea alcuni amministratori pubblici di questo territorio, questo è un messaggio che voi lanciate, c'è un discorso aperto con le amministrazioni comunali del territorio, cosa possono fare effettivamente i sindaci per armonizzare un po' queste differenti tassazioni da Comune a Comune? Se no, intanto grande rispetto è anche per l'amministratore, fare l'amministratore oggi è complicato, quindi non solo rispetto ma vogliamo dare assolutamente tutto il nostro supporto e non polemizzare a prescindere. Certo è che noi rappresentiamo le imprese e le cose vanno dette come stanno. Noi pensiamo che la stagione delle riforme istituzionali e comunque le riforme oppressive che il Governo centrale ha lanciato ormai da tempo abbia un impatto anche sulle riforme istituzionali locali. La questione delle tasse locali è una delle questioni ma non solo, qui la questione è anche della fusione dei Comuni, quindi riforme istituzionali che possano già di per sé portare in un meccanismo virtuoso per noi sono elementi da dovere che ogni amministratore deve quantomeno valutare. Le fusioni non è che vanno bene a prescindere dalla panacea di tutti i mali, no, però non è più il momento dei campanili, non è più il momento delle bandierine, è il momento di fare una valutazione per le prospettive future dei propri cittadini e imprese, per quale è l'elemento virtuoso da mettere in campo. Lei si aspetta qualche, non voglio dire notizia positiva, comunque qualche passo in avanti per quanto riguarda questo tema, quello della fusione dei Comuni? Noi come CNA lo facciamo da stimolo. CNA Ritempestitare ha fatto anche alcune settimane fa un'importante iniziativa proprio sulla fusione dei Comuni perché pensiamo che questo sia uno degli elementi da valutare. La fusione dei Comuni, ci ricordiamo, porta anche risorse importanti sia dal livello nazionale che della regione a quei Comuni che iniziano questo percorso ma soprattutto le mette nelle condizioni anche di efficientare al meglio la macchina e anche dandogli la possibilità di stare fuori dal patto di stabilità che francamente avere più soldi e poterli spendere anche gli investimenti per noi è una storia che ci riguarda. Un'ultima domanda per Petri, parliamo anche di qualche nota lieta per quanto riguarda le imprese del territorio, quali sono le prime note che le vengono in mente se vogliamo essere positivi e guardare con un filo di ottimismo al futuro? Ma non c'è dubbio che i settori che sono legati all'internazionalizzazione, quindi fu un esempio il camper in Valdezza sta rinunciando a assumere e quindi ci sono segnali positivi, purtroppo non tutte così, quindi ci sono segnali alterni dove il quadro non ci fa dire che siamo fuori dalla crisi, non siamo ancora fuori dalla crisi, ci sono solo dei segnali positivi che ci fanno ben sperare, ma noi sappiamo bene che dobbiamo lavorare pancia a terra ancora in modo anche molto marcato per creare quelle condizioni, per dare quella spinta ulteriore, per farci dire che siamo fuori completamente dalla crisi con dati molto più importanti di quelli che abbiamo oggi in mano. Si parla di tasse, si parla di imposte molto alte, abbiamo sentito, si lavora fino ad agosto, così hanno detto i dirigenti della CNA nazionale e locale, per poi iniziare da agosto a incassare soldi perché fino ad agosto si lavora per pagare le tasse, cosa ne pensa di questo argomento Stefano Scaramelli. Che l'Italia viva una condizione ereditata dal passato in cui il livello di tassazione sia molto alto, questo è evidente, non è anche un limite alla possibilità di investire, di crescere, di creare possibilità di determinare nuovo reddito e nuovo sviluppo, quindi la sfida che dobbiamo fare come amministratori locali, sia a livello regionale che comunale, è quella di cercare di invertire questa tendenza, da un lato anche agevolare l'impresa non soltanto nella riduzione della tassi, ma anche in quello che molte volte le imprese ci chiedono, che è ridurre la burocrazia, cioè metterli nelle condizioni di poter fare o generare condizioni che possono agevolare l'impresa, a livello regionale quest'anno è stato un bilancio complesso, però la forza del nostro gruppo ha fatto in modo che la Toscana per esempio non aumentasse il livello di tassazione, cioè di fronte a un problema di risorse, la sfida di un amministratore moderno non è innalzare le tasse, ma trovare la soluzione per risparmiare, per riorganizzare, lo stiamo facendo in vari settori dell'organizzazione regionale, come nel mio piccolo ho fatto quando ero amministratore comunale, abbiamo vinto la sfida di ridurre le tasse, quello era un obiettivo che mi ero posto in 4 anni, ce l'abbiamo fatto, abbiamo anche cercato di fare nel contempo il dimezzamento dell'indebitamento e fare investimenti, quindi oggi gli amministratori non possono più, gli amministratori locali andare a parlare da un'impresa e non dirgli che loro stessi hanno fatto uno sforzo, deve essere uno sforzo di sobrietà, uno sforzo di rimettere in discussione il sistema statale per renderlo più efficace, più efficiente e per fare in modo che l'impresa paghi meno tasse, perché se paga meno tasse è in grado di investire, di creare lavoro, di creare occupazione. Noi non possiamo determinare processi di occupazione nuova o di creazione di reddito se l'impresa è aggredita da uno Stato che non percepisce più amico, noi dobbiamo riportare questa condizione e fare in modo che l'impresa non lavori fino a agosto per pagare le tasse, ad agosto vada magari in ferie ma abbia già iniziato a produrre reddito se lo possa consentire di determinare durante tutto l'anno, questa è una sfida importante, fa bene il CNA alzare l'attenzione su questo, penso che anche a livello nazionale qualcosa è stato fatto di riduzione di tasse, dobbiamo fare di più, per questo dobbiamo cambiare anche il nostro paese, rendere più efficace, più snello, più semplice e eliminare tanti enti intermedi che di fatto determinano dei costi di burocrazia e zero efficienza. Abbiamo sentito anche il discorso del sindaco di Siena Bruno Valentini che ha ricordato come sul comune di Siena il debito fosse altissimo e sia ancora molto alto nonostante sia diminuito negli anni, allora per un amministratore pubblico in un periodo come questo quanto è difficile come si fa a stare fra questi due paletti, quindi non aumentare, riuscire a non aumentare, anzi diminuire il debito delle varie amministrazioni pubbliche e da un altro lato riuscire al tempo stesso a non pesare su imprese e su cittadini con una tassazione che addirittura si vuole abbassare. No va bene, la valutazione che ha fatto il sindaco di Siena può essere giusta, non la condivido perché secondo me non si può raccontare alle imprese che te fai il sindaco per ridurre l'indebitamento e basta, tu devi fare il sindaco per fare investimenti, per creare reddito e per ridurre le tasse, cittadino non gli puoi raccontare che chi c'era venuto prima di te ha fatto male, ognuno di noi ha trovato situazioni di bilanci complessi, la sfida di un amministratore è fare meglio, non fare in modo che non facendo le cose si riducano gli indebitamenti, tu devi creare anche lavoro, devi fare investimenti e ridurre le tasse, la sfida è misurare un amministratore in quanti investimenti ha fatto, indipendentemente dal lato di partenza, altrimenti non ti devi candidare davanti ai cittadini per promettere delle cose se poi non conosci lo status quo delle cose, io quando ho preso in mano il mio comune ero consapevole del livello di indebitamento che c'era, ero consapevole delle difficoltà che c'era posti dal patto di stabilità e del livello di tasse, se ti candidi a guidare una città devi avere l'ambizione di ridurre le tasse, di fare investimenti, di creare lavoro e non puoi raccontare dopo 3 o 4 anni che soltanto si è ridotto l'indebitamento, l'indebitamento si riduce se non fai nulla e questo va bene, devi fare qualcosa di più, le imprese chiedono qualcosa di più, gli amministratori oggi non possono far scorrere il tempo, devono incidere nei progetti di cambiamento e fare sempre qualcosa di più perché le imprese ci chiedono questo, chiedono lavori, chiedono appalti, chiedono possibilità di far girare il reddito e di apportare anche nuove imprese, nuovi redditi, noi abbiamo portato per esempio nell'esperienza amministrativa molte aziende che sono venute da fuori, che pagano tasse, pagano affitti, creano un meccanismo virtuoso di competitività fra le imprese, questa è la sfida di un'amministrazione.